Adesso non dite che sono contro il Movimento 5 Stelle. Pochi giorni fa ho detto che Virginia Raggi è il miglior sindaco che Roma abbia mai avuto e non ho cambiato opinione. Però ha fatto una delle più grandi sciocchezze che un politico o comunque un amministratore pubblico possa fare. Un autogol pazzesco. Ovviamente mi riferisco alla visita alla famiglia Roma alla quale è stata assegnata una casa popolare. Ecco, fare una cosa più impopolare di quella non si poteva. Se una persona vuole volontariamente perdere dei voti, beh, non può scegliere un metodo più efficace. La cosa peggiore è che chiaramente lei ha fatto tutto questo pensando di danneggiare la Lega. Nella realtà non poteva fargli un favore migliore. Vedere la sindaca scortata da un nugolo di poliziotti mentre tutta la gente per bene gli urlava vergogna, vergogna, beh, mi ha fatto tornare alla mente il povero Renzi. Ricordate il bomba con la trovata del suo treno, no? Che hanno dovuto ad un certo punto non rendere notte le stazioni nel quale arrivava il treno per evitare che ad accoglierlo ci fossero cittadini imbestialiti con lui. Ecco, la Raggi ieri sembrava Renzi. Ma la sindaca non ha fatto imbestialire solo la popolazione romana, ma anche il capo del suo partito, il capo politico del Movimento 5 Stelle. Il povero Luigi Di Maio, infatti, sembra che gliene abbia dette di tutti i colori. Cinque minuti dopo che hanno cominciato a girare sul web le immagini della Raggi dileggiata da tutti i cittadini, penso che il Movimento 5 Stelle abbia avuto un crollo nei sondaggi elettorali. Mi immagino il povero Di Maio che sta lottando con le unghie e con i denti per riuscire a strappare un 25% ancora, quelle prossime europee, quanti accidenti gli avrà attirato, insomma, altro che quello che gli hanno gridato i cittadini del quartiere. Io veramente non capisco, ma davvero. Allora, in certe occasioni, vabbè, noi nel linguaggio politico prendiamo prestito, insomma, utilizziamo il termine calcistico autogol, per indicare un'azione che ha creato un danno alla stessa persona che l'ha messa in atto. Però un autogol nel calcio è un evento non voluto, normalmente è una deviazione involontaria. Qua invece sembra che la Raggi abbia calciato violentemente il pallone verso la propria porta. Perché figuriamoci se non si trovavano irregolarità, dai, usiamo un eufemismo, sulla famiglia Rom che si è vista assegnare questa casa. L'automobile di questa famiglia, una Lancia Station Wagon, naturalmente non era assicurata. Allora, sapete cosa significa? Semplicemente significa che quell'assicurazione gliel'abbiamo pagata noi. Perché ovviamente le vittime di un incidente provocato da un'autovettura non assicurata vanno ovviamente comunque risarcite, no? Ed allora tutti coloro che stipulano e quindi pagano regolarmente un'assicurazione hanno anche una maggiorazione che serve appunto a risarcire le vittime della strada di coloro che viaggiano senza essere assicurati. E sapete così a quanto ammonta la multa per una macchina non assicurata? Ecco, va da un minimo di 841 euro a un massimo di 3287 euro. Ecco, secondo voi questa famiglia Rom pagherà questa multa? Oh, Virginia! Eh, la paghi tu questa multa al loro posto? Ma il peggio è che la targa di questa macchina risulta dismessa dal 2004, 15 anni fa. E 15 anni fa quella era la targa di una Mazda. E allora ci rivolgiamo ancora alla cara Virginia. Virginia, chiederai alla polizia locale di fare delle indagini per capire se dietro a tutto ciò ci sia un, magari è, un traffico di auto rubate. Ah, forse no, perché quando la polizia convocherà il capo famiglia di questi Rom per contestargli la provenienza di quell'auto, ebbè lui non potrà presentarsi, visto che in quel momento sarà in Vaticano, è ricevuto anche con tutti gli onori da Papa Francesco. Povera Italia! Povera Italia! Vabbè, fatemi concludere per ora con un appello. Sapete del mio impegno con il vaso di Pandora. Ebbene, da ieri insomma è online la puntata che ormai è diventata un appuntamento mensile fisso con il nostro esperto in politica internazionale, il dottor Lombardini. E allora vi invito caldamente davvero ad ascoltare quello che noi definiamo l'osservatorio di politica internazionale per il mese di maggio. I temi trattati in un'ora di trasmissione che si ascolta ad un fiato, eh? Attenzione, i 70 anni della Nato, gli sviluppi della situazione in Libia, lo scandaloso arresto di Julian Assange, il fenomeno mediatico Greta Thunberg, e cosa c'è dietro l'accordo franco-tedesco di Aquisgrana, l'anomalo incendio di Notre Dame, ed infine il TTIP e il ritiro della firma da parte di Trump sul trattato ONU sulle armi. Veramente io vi posso garantire, assicurare, che non sentirete mai nei media nazionali ciò che vi svela il dottor Lombardini. Quello che vi dice Simone Lombardini è informazione allo stato puro. Allora, oltre al link dell'intera puntata col dottor Lombardini, vi lascio anche il link della prima pillola della trasmissione di questa settimana, ospite l'avvocato Giuseppe Palma, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Un saluto a tutti.